Ciao, tutto bene? È un piacere. Ho aggiunto le sedie che mi ha capo. Grazie. Ma come stai? Sono tutte stronzate. Conosco bene questa gente. Vogliono farti il lavaggio del cervello. Guarda che non ti ho chiesto di venire. Sembra, si intende di fare... Dico solo che non serve a niente. D'accordo. Ci siamo tutti? Sono venditori di fumo, se vuoi saperlo. Siamo qui per lo stesso motivo. Le nostre vite sono fuori controllo. Vogliamo tutti essere pezzi grossi, diventare ricchi, potenti, ma senza sforzo. Un modo per non affrontare la vita. Mi suona bene. Io mi chiamo Kelly e... sono un giocatore compulsivo. Ciao, Kelly. Io mi chiamo Glenda e sono una giocatrice compulsiva. Ciao, Glenda. Ciao, Glenda. Ciao. Beh, e adesso? Mi chiamo Matt e ho problemi con il gioco. Ciao, Matt. Ciao, Matt. Salve.